Il nostro desiderio è quello di valorizzare al massimo questa grande opportunità e fortuna che abbiamo, che deriva da decine di anni di lavoro da parte dei nostri agricoltori che si sono dedicati al biologico, quelli che chiamiamo custodi della terra, che hanno saputo coltivare e mantenere le biodiversità, fare agricoltura biologica nel rispetto anche dell'ambiente, di un'agricoltura sostenibile. Tutto questo oggi ci porta ad essere la regione che ha il maggior numero percentuale di produzione biologica rispetto al complessivo. Quindi circa il 23%, su una superficie di 110.000 ettari e in questo vede la crescita da un lato del numero di produttori che sempre di più si stanno dedicando al biologico, che è una percentuale più alta del resto d'Italia, e una percentuale anche di consumi del biologico che è in media più alta di quella d'Italia. Quindi significa che il tema del biologico è qualcosa che è veramente molto radicato nella nostra regione. E quindi noi abbiamo pensato che per valorizzarlo e farlo diventare un elemento di forza della nostra regione bisognasse fare il distretto biologico più grande dell'intero paese, più grande d'Italia. Quindi se, come faremo nelle prossime settimane, c'è un grande supporto e una grande trasparenza nell'adesione a questo distretto, valorizzeremo l'impegno di chi già si è prodigato per iniziare, quelli che sono stati i pionieri di questi distretti, per farne uno grande, che sia forte, che abbia un marketing dietro, che difenderà i prodotti, ma addirittura lo farà diventare un'occasione di promozione, di storytelling della nostra regione, che sarà la regione bio d'Italia. E questo ci darà un beneficio sia agli agricoltori, ai più piccoli come ai più grandi, ma diventerà un'opportunità per l'intera regione anche in termini di turismo, perché è chiaro che la nostra denominazione come regione dovrà essere quella di una regione sostenibile, che ha un'agricoltura che ha rispetto dell'ambiente, ma ha anche un luogo in cui i prodotti sono davvero buoni, infatti con la qualità. Insieme al distretto del biologico unico delle Marche, dove investiremo 100.000 euro e daremo come contributo a chi genererà il distretto, creiamo a fianco anche il distretto delle certificazioni, per creare anche dei distretti più piccoli, dei subdistretti più piccoli, che riguardino aree territoriali dove si identificano delle indicazioni geografiche o delle certificazioni tipologiche. Oltre a questo abbiamo inventato anche un altro distretto che è quello dei prodotti di prossimità, dei prodotti di qualità locali, in modo che si possa creare un'interconnessione finalmente tra le imprese agricole, i trasformatori, ma anche la ristorazione, che diventa la vetrina insieme alla commercializzazione e la grande distribuzione, una vera vetrina che possa stare dentro a questi distretti. Tutto questo per fare cosa? Per fare in modo che la nostra regione si sappia vendere fuori, all'estero, insieme a tanti altri messaggi di comunicazione, come una regione bio, che è sicuramente la più grande d'Italia, ma che ha anche un valore, una cultura diffusa del rispetto ambientale.